pure coerente soltanto che prima giocavi i cavalli tuoi e perdevi adesso giochi quelli degli altri e perdi ancora esatto sei un uomo intelligente poldro ma almeno sa cucinare azione ma almeno sa cucinare no non tu come chiusura ehi vabbè vabbè è una battuta mia poldro tu sei un bel ragazzo hai veramente fantasia bravo bravo